Eccomi, Ikamur, sto arrivando! Aspettatemi, non vorrete mica assediare senza il buttafuori, eh? Che viene a buttare fuori i nemici? Aspettatemi! Da vediamo un po' se stanno già assediando, oppure... Sono ancora in tempo, battaglia! Cosa? Aspettatemi, fermi! Fermi lì! Alt! Eccomi, avvicino al campo di assediati! Unisciti al prossimo assalto! Perfetto! Siamo pronti, uomini! All'attacco! Eccoli, difensori! Vai con gli archi! Questa è la guerra! La guerra contro il cannato! Ancora voi schifosi! Dovevate stare con noi, non contro di noi! Grande re Iarolek! Eccolo lì, guardalo! Stai fermo lì tu! Coccodino lì! Altro che la balestra! Dai, spara a dargli a tradimento! Ok, perfetto! Ok, possiamo salire sulla scala adesso! Guarda che colonna che c'è! Dai! Su! Salite! O le prendete o salite! Eccoli! Matti! Matti dalle gare! E dai! Muovetevi! Animali! Lo becco, lo becco! In testa! Headshot! Ops, scusate, alleato! Non volevo colpirti! Guardalo quello fiero col macete! Fatevi largo! È il mio turno adesso! Schiatta, Joe! Fatemi passare! Questi qui mi fanno il culo, se no! Via, via! Levatevi, ultimi! Ma guardali! Levati! Devo farmi strada con le armi, ho capito! Oh, che culo! È tempo di usare ancora l'arco! Faccio andare avanti prima la carne da macello, perché qua rischio parecchio! E siccome, se muoio io, le mie truppe sono costrette a ritirarsi! Tanto posso beccare quegli altri, là! Non li ho mancati! Forza, uomini! Uccideteli tutti! Dai, su! Eccoli là, quelli là! Mi beccato uno! Dove sono le frecce? Ok, è il mio turno con la spada! Guarda che macello qui, che orgia! Ho finito le frecce io! E qui non ce ne sono, c'è solo un mucchio di cadaveri! Ma guarda, è difficile passata qui! Rischio di cadere se passo! Sono caduto! Aia! Che male! Vado su, li prendo da dietro adesso! Oh oh! Meglio di no! Cambio di azione! Salgo sulle scale di là! Che macello! Però siamo in vantaggio noi adesso! Eh sì! Non mi conviene andare lì in mezzo l'orgia, lì! Piuttosto rischioso! Poi visto la vita che ho! Ecco, però questo lo posso ammazzare! Ehm, è meglio di no! Ok! Guardate che casino! Non si capisce niente qua! Che direi, i lord vanno sempre per ultimi dopo tutto! E abbiamo vinto! O no! Stanno facendo non so cosa un'orgia! Un'altra orgia qua! Guarda questo qui che è incastrato qua! È morto! C'è gente che sta attaccando quelli che sono morti! Sono caduti! Abbiamo vinto! E vai! Ma vieni! Le mie perdite sono quattro soldati! Ho perso quattro soldati! Che sono... Due soldati di Svadia! Una donna guerriera! E... Un soldato sarenide veterano! Gli altri sono feriti! Hai occupato le mura della città! Ok! Ora devo andare a prendere quelli ostinati! Che sono nelle strade! Qui posso fare tanto! Aia! Però stare fermo è rischioso! Oh! Ucciso! Schifoso! Ma gli altri sono morti! Ah no! Ce n'è uno ancora vivo! Schifoso! Muori! Aia! Muori! Non mi avrete mai! E sparatoia questa! All'ultima freccia! Oh! L'ho ucciso! Guardalo! Guardalo! Uuuuh! E' morto! E' morto! Ce n'è ancora qualcun altro? Devo fare attenzione perché potrebbero buccare fuori da un momento all'altro! Eccolo! Proprio matto! Ha il giavellotto quello! Eccolo che va di spada adesso! Ha capito? E' troppo vicino per andare col giavellotto! Avanti! E te! E te! E sei morto! Hehe! Ma ce n'è ancora qualcun altro! Voglio essere prudenti! Ah no! Ho vinto! Ho vinto! Nessuno ha perso! Il centro della città è occupato! Bene! Ma manca ancora qualcuno! Nel castello! Quello lì che vuole buttarsi giù! Aia! No! Lo vado a prendere su di persona questo! Bravo! Io ho paura! Sto per morire! Vado di parate io! Qui muoio! Vai! Eccidilo tu! Bravo! Bravissimo! Ne manca uno solo! Alzati! Non lasciarti uccidere a quello! Dai tu sei un cavaliere ecco! Bravissimo! Dai che possiamo... Abbiamo vinto! Che rischio però! E' nostra! Sì! I soldi non ne ho presi! Vabbè! Questo qui va verso... Ah no! Sta scappando! Compagnia! Mi sono ferito! Però posso promuovere! Il villaggio adesso è nostro! Andrei volentieri a depredare una carovana per farmi i soldi! Mi servono soldi! Ma non ho niente da vendere! Il bandito è troppo veloce! Vado a parlare con il generale! Eh esatto! Chi pensate dovrebbe ricevere il feudo? Boyer Castia! Vabbè dico che lo appoggio dai! Dai! Così almeno poi... Aumento i rapporti con lui! Guarda il bandito che scappa! Adesso gli taglio la strada! Venite qua! Banditi dei miei stivali! Taglio la strada adesso! Dove scappate? Vigliacchi di banditi! Dai prendetevi! Prendete quei banditi! Eh sì sì! Vieni da me! Grande! Così perfetto! Carico il nemico! O potrei mandare anche i miei alleati! No carico il nemico dai! Anche... Ah adesso non sono più ferito! Tantissimo! Posso combattere! Bene! Non sono più infortunato! Ah ah ah! Eccolo lì! Eccolo lì! I disertori! Dove credi di andare tu? Sei mio! L'ho ucciso! E un altro! Cadono così bene! E' un piacere! I soldati li stanno facendo a pezzi! Ecco che arrivano i soldati del Lord! Dai! Sono caduti! Ok! Ho solo due feriti! Sono schiavista! Grazie per il vostro aiuto! Bene! Perfetto! Così ho anche aumentato... Ho anche aumentato... La reputazione con lui! E mi prendo questi soldati! Recluta! Recluta! Contadini con me! Limite truppe! 88! E ho preso anche dei soldi! Ho preso... Il berretto nomade! La spada nomade! Il cavallo che però ha zoppato! E lo venderò! E l'armatura kerchit robusta! Prendo tutto che poi vendo! Ho preso 20 denari! Oh non ho niente da mangiare! Torno a Ikamur! Anzi no vado qua! A Dirigaban! Tra l'altro Ikamur come avete visto è una città... Bella grossa eh! Conquistarla è stata davvero... Un gran colpo! Parto! Se trovo una carovana nemica! Dai predoni vieni qua! Eh eh! Preparatevi a morire predoni! La mia roba... No la vostra roba ora è mia! Non potete competere contro il mio esercito! Contro la mia armata! Cosa credi di fare te? All'attacco! Stanno tutti quanti... Venendo uccisi! C'è anche l'altro gruppo di banditi! Ma poco importa! Adesso crepano tutti! E muorici! Cavallo che passa davanti... Guarda! Proprio bello no? Colpito! Vieni qui! Che adesso ti... Faccio a fettine! Scappa allora eh! E sparatoia qui! E muore! Devo dire che adesso sono già molto più potente rispetto a una volta! Guardalo che scappa quel vigliacco! E' fuggito! Proprio fiero! Abbiamo vinto! Ma questo era ovvio! Nessuno! Ce ne sono altri! Vai! Sterminiamoli! Sono convinti di vincere i banditi eh! Sono quattro! Sono quattro gatti! Guardateli! Non uso neanche l'arco! Vado direttamente! No! Tu non fuggi adesso! Andate! Vai! Prendetelo! Scusa! Ok! Perfetto! Soldato Nord ha addestrato! L'ha ucciso! No! Che ritirata! Perfetto! E non posso più prendere altre truppe! Non so! Rilascierei qualcuno! No! Va bene così! Fatto! Io mi prendo la loro roba! Da rivendere! Cav... 87 denari! Molto bene! Mi compro altro cibo! Mi compro il... No! Vado alla città principale! Eh eh! Chi è quello? Ah è Boyer! Uh! C'è un nemico là dietro! Lo vado ad attaccare! Scappa! Vigliacco! Tanto è questione di tre uomini! Piazzare il mercato! Vendo! Li vendo! Vado a vedere... La mia compagnia! Ecco intanto! Aumento! Carisma! Posso aumentare il controllo dei prigionieri! Perfetto! Così posso farmi più soldi! Se trovo il riscattatore ovviamente! Aumento i danni con la lancia! Per le giostre mi sarà utile! Ed è fatto! Ora guardo la compagnia... Accolita di spada! Eh eh! Direi di farmi altri armigeri di Svadia! Soldato Nord! Al strato! Un guerriero nord adesso! Fante Saranide! Soldato Vaigir! Lo promuovo a... Schermagliatore! Perché mi servono! Arcele Saranide! Ecco! Devo parlare giusto con lui! Fatemi vedere il vostro equipaggiamento! Infatti! Andiamo poi Mirra! Parla! Anzi le abilità adesso... Ah no! Non ne ha... Da migliorare! Tostomar Need! Mi sembrava che... Doveva aumentarle! Ah no! Il contadino! Veterano! Lo promuovo a cavallo e giro! Vado a vendere! Mercante! Quasi così vado alla taverna! Il scattatore c'è! Eccolo! Proprio lui! Eccolo! Ok! Allora la borsa è piena di denari! 140! 20! 20! 96! 60! 150! Attenzione! Ora sì che ho i... I big soldi! Perfetto! Grazie mille! Ne avevo bisogno! Ora... Bisogno di cibo! Ah sì! Direi va bene così! Se no dopo non hanno abbastanza soldi per pagarli! Va bene ragazzi! Per oggi è tutto! Alla prossima! Ciao!